buonasera a tutti e grazie per questo graditissimo invito come vi ho detto anche quando ci siamo collegati sono veramente contentissima di essere qui con voi e adesso enormemente il fatto che voi da cittadini dedicate il vostro tempo a parlare di acqua della gestione interessarvi del problema del diritto come bene comune questo è un contributo che si dà alla società l'ha detto anche un po padre alex prima purtroppo c'è stato insomma questa questa grossa onda del referendum in cui sembrava che il problema fosse stato posto al centro dei riflettori e oggi invece si fa una fatica enorme a portarlo al centro dei riflettori con tutta una serie di problematiche enormi partiamo appunto ecco dal dal pnr che è davvero un enorme cruccio per noi di abc in questo momento nel senso che tanto per cominciare il 70 per cento dei fondi che sono stati destinati al sistema idrico integrato sono già andati persi per quanto ci riguarda e per quanto riguarda tutta una serie di gestori che non sono affidatari nei distretti affidatari unici nei distretti in cui operano quindi già il 70 per cento di quelle risorse il sud non le vedrà più ad eccezione di qualche di qualche gestore che affidatario ecco in campania c'è una società mista pubblica privata c'è qualcosa ecco in puglia in 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 e poche altre realtà ma tutto il resto che è fatta di piccoli gestori gestori in economia ormai sono già stati esclusi eh dal da questa grande fetta bene l'altra fetta del 30 per cento dei finanziamenti dovrebbe essere concessa a eh quei gestori che completano le procedure di affidamento entro giugno duemila e ventidue ora questa norma mi lascia un po' pensare che eh probabilmente non eh si avesse ben chiaro la realtà eh dei gestori al sud perché eh sono delle tempistiche che sono eh difficilmente compatibili con questi processi di trasformazione che possono essere anche drammatici per l'azienda e se si fa il caso ecco di Napoli il distretto in cui attualmente opera ABC è composto da Napoli e da altri 31 comuni e va bene questo è un dato ma eh diventare gestori di altri 31 comuni di gestori che attualmente hanno gestione in economia ci sono eh comuni commissariati eh qualcuno che è stato sciolto per camorra eh ci sono tutte delle situazioni che sono complessissime quindi è molto difficile pensare in un tempo così stretto di poter veramente realizzare qualcosa di eh che sia veramente razionale che sia veramente pensato che sia veramente efficiente eh però allo stesso tempo noi ci stiamo ci stiamo preoccupando molto perché bisognerà trovare una soluzione perché chiaramente eh quando ci capita più in un territorio ecco come quello di Napoli penso che conoscete le vicende del comune di Napoli eh che ha un fortissimo indebitamento ma come altri molti altri comuni italiani e quindi per noi questi centocinquanta milioni di euro che abbiamo chiesto sulla base di progetti che abbiamo presentato sono importantissimi perché eh ABC eh non ha non fa eh bollette su cui vengono caricati enormi costi degli investimenti ABC fa una politica differente quindi per noi poter ricevere questi eh finanziamenti pubblici da destinare al rifacimento del sistema fognario a tutta una serie di opere strutturali di cui la città ha bisogno per noi è un'occasione imperdibile e quindi ecco perché vi ringrazio del fatto che avete dato vita a questa carovana che poi arriverà a Napoli perché è l'ennesima beffa o occasione persa per il sud Italia e questo è un fatto grave ci vengono a dire che eh c'è questo famoso water service divide va bene c'è questo water service divide ci dicono anche perché eh perché dice che sostanzialmente eh sto leggendo proprio qui dal sito del del ministero per il sud e la coesione territoriale dice beh le regioni del mezzogiorno fanno registrare il cinquantadue virgola tre per cento di perdite idriche cioè più della metà dell'acqua viene sprecata eh io però eh quando leggo questi dati resto un po' resto un po' sorpresa perché in realtà l'azienda che io rappresento non ha eh questo tipo di problema sicuramente non in queste in queste percentuali eh poi eh si denuncia il fatto che eh le famiglie meridionali subiscono interruzioni della fornitura idrica eh frequentemente e anche questo sicuramente è uno scenario che a Napoli non non è non è sicuramente all'ordine del giorno e quindi eh diciamo che quello che eh quello che effettivamente esiste è che c'è una diversa concezione del sistema idrico entregato da nord e sud è completamente diverso eh voi avete su a Torino ma anche in Veneto anche in Lombardia queste grandi multi utility che eh che gestiscono in pieno tutte le componenti del servizio idrico integrato quindi acquedotto, fognatura, depurazione, effettivamente qui giù al sud questi questo non si è creato ma non si è creato non perché eh i gestori non eh si siano evoluti o perché chissà cosa no perché ci sono stati dei ritardi sostanzialmente della politica eh gli enti preposti non non hanno completato queste procedure di affidamento per tutta una serie di ragioni che non stiamo qui insomma insomma a considerare eh però ecco poi alla fine eh gli enti che vengono penalizzati eh poi sono quei gestori efficienti come ABC. Allora io penso che dobbiamo eh assolutamente insomma ehm alzare il livello di attenzione anche se vi dico che allo stato attuale non non abbiamo avuto delle interlocuzioni eh diciamo eh valide eh sul punto nel senso che io ho provato eh qualche mese fa eh a interloquire con il presidente Draghi eh scrivendogli una lettera ma che in realtà ecco oggi forse posso dire che è rimasta senza risposta eh questo un po' mi dispiace perché eh se da un lato comprendiamo che mh sia necessario fare una riforma del del sistema nel senso che ecco effettivamente ci vuole un maggiore efficientamento se parliamo proprio ecco di gestione aziendale dall'altro però noi rivendichiamo il fatto di essere eh un modello aziendale differente non per questo non efficiente e quindi ehm insomma questa questa è questo è il 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 succo della questione eh che cosa succederà eh non lo sappiamo che cosa succederà nel senso che eh come ricordava Mariangela qui a Napoli si è da poche settimane ma proprio pochi giorni direi insediata una nuova amministrazione con cui eh al momento non ha non ho ancora avuto delle interlocuzioni molto diciamo approfondite su su sul punto ma in realtà eh ho in programma tutta una serie di di incontri e spero che in questi incontri eh venga manifestata la volontà di mantenere ABC come azienda pubblica speciale perché eh chiaramente eh eh è un sistema completamente diverso cioè è è proprio una concezione aziendale differente è tutto un altro discorso nel senso che si è creato un legame molto molto forte tra l'azienda e il consiglio comunale eh tra gli indirizzi della politica tra la partecipazione delle persone ABC è proprio così cioè è proprio l'azienda sentita di napoletani cioè è un modello completamente diverso noi ce ne accorgiamo perché molto spesso dobbiamo adeguarci alle direttive di Arera su tanti profili e queste direttive sono evidentemente pensate per modelli societari differenti eh vi faccio un esempio banale che a me eh ha fatto molto riflettere noi siamo stati costretti eh a insomma eh implementare tutte le attività dei call center no per per dare assistenza eccetera prima noi lo facevamo in maniera diversa nel senso che era gestita all'interno dell'azienda e poi nelle agenzie bene ehm vi assicuro che i napoletani preferiscono ancora recarsi presso la sede storica di ABC che si trova al centro storico quindi eh le persone sentono questo questo legame con l'azienda che è completamente diversa questa azienda è la loro azienda non è l'azienda delle delle come una grande società che è distante che è lontano questo è proprio a Napoli si dice l'acqua del sindaco ABC è l'acqua del sindaco nel senso che si percepisce la dimensione pubblica di bene pubblico molto molto forte tant'è che questo si capisce da tanti indici per esempio la bolletta eh noi eh pratichiamo tra le tariffe più basse d'Italia cioè eh un millesimo di euro eh al litro praticamente costa a Napoli l'acqua ma questo non significa che non sia buono anzi eh tutta la straordinarietà dei nostri prodotti a partire dalla pizza per finire al piatto di pasta ecco l'ingrediente segreto e quello più prezioso è l'acqua noi abbiamo la fortuna di avere delle sorgenti molto molto preziose molto ricche però c'è anche tutto un lavoro molto serio dell'azienda quindi la nostra politica è di non lesinare su tutto quello che riguarda qualità su tutto quello che riguarda protezione dell'utente meccanismi di solidarietà sociale ma non soltanto verso i verso i nostri cittadini perché noi abbiamo un fondo di solidarietà internazionale cioè poiché noi non possiamo distribuire utili cioè noi non noi perseguiamo l'obiettivo del pareggio di bilancio se facciamo degli utili eventuali utili noi non possiamo destinarli alla distribuzione ma noi dobbiamo semplicemente realizzare dei fini statutari tra questi fini statutari oltre al fatto di dover implementare le infrastrutture quindi della rete eccetera noi possiamo destinare una certa percentuale a un fondo di solidarietà internazionale cioè andare a realizzare in paesi dove ci sono problemi nell'approvvigionamento dell'acqua andare a realizzare dei progetti di cooperazione allo sviluppo di assistenza proprio perché in questa azienda se lo vedete pure se se leggete semplicemente lo statuto c'è abc non è che gestisce soltanto il sistema idrico integrato ma gestisce i beni comuni che ruotano intorno al sistema idrico integrato questa è una differenza enorme cioè l'acqua non è una merce sull'acqua non si può fare profitto e abc non farà mai profitto sull'acqua nella forma in cui è siamo preoccupati per il futuro sì francamente sì nel senso che se lei diceva anche mariangela parlava di questo di questo questa legge sulla concorrenza che mi pare sia sia passata o dovrà passare sì noi siamo molto spaventati perché chiaramente le forze centrifuge spingono verso modelli societari molto grandi sicuramente non non rispondenti al modello attuale di abc che comunque ha un rapporto soltanto col comune di napoli perché poi l'affidamento è stato dato direttamente dal comune di napoli probabilmente ci spingeranno verso verso altro però noi riteniamo comunque che sia assolutamente importante mettersi a presidio a difesa di queste conquiste di civiltà enormi che sono state fatte che probabilmente ecco non ci fanno fare bilanci paragonabili nemmeno minimamente a quelle delle grandi multi utility che operano in italia ma è proprio perché questo non è un elemento importante l'elemento importante è che ci sia acqua per tutti ad un prezzo ragionevole e di qualità elevata quindi diciamo che questa è la filosofia di abc e questa è la filosofia che io come presidente ma anche il cd a intendiamo assolutamente portare avanti vediamo il futuro che cosa che cosa porterà grazie molto bello grazie grazie presidente è un futuro che la confermi in questo impegno in quest'opera e sarà anche una dovrà essere una delle rivendicazioni del 20 novembre a napoli quella di conservare abc e di svilupparla in questa direzione Grazie.